E a me si va avanti a ignorarli, perché se andate purtroppo la questione Almaviva non è che la punta dell'iceberg, nonostante i numeri importanti. Io da quando sono in Senato continuo a vedere settimanalmente al Mise flotte di lavoratori e di aziende in difficoltà. Io ormai il Mise lo chiamo il Mife, il Ministero del Funerale Economico, perché purtroppo la situazione è questa e non si riescono a risolvere, nel maggior parte dei casi non si riescono a risolvere le cose. Dicevo, a me dispiace perché poi quando vai nelle aule parlamentari e senti parlare il Premier Gentiloni, questo ti dice io vedo la luce, la luce nell'economia. Ma dove la vedi la luce? Io la cosa che dico sempre a tutti e che lo dico anche a me stesso la mattina, un bagno di umiltà è parlare realmente con la gente reale, la gente vera, quella che vive la vita vera, non la vita di palazzo. E purtroppo secondo me molto spesso si usano e si utilizzano le frasi fatte, ma perché si pensa veramente di illudere le persone. Poi questi ti votano no e ti mandano a casa. Contemporaneamente mi lascia perplesso anche tutta la situazione delle banche. Io ho ascoltato molto bene quello che è stato detto prima dai colleghi e sottoscrivo sia quello che diceva Rossi che quello che diceva Castelli. Assolutamente lo sottoscrivo al 100%. Le banche in questo momento sono un problema, sono da aiutare, se la politica ci deve mettere la testa, metterla bene. Benissimo, è ok e bisogna farlo. Aiutare le banche può darsi che voglia dire anche aiutare quelle aziende che in questo momento sono in difficoltà. Bene, però ci devono essere dei responsabili. Non può essere che gli amministratori delegati delle banche o i membri del CDA nel momento in cui vanno a casa, si portano a casa come liquidazioni, milioni, milioni di euro e chi va là va tutto bene, va là la Marchesa e poi i dipendenti sono quelli che ci rimettono.